Uno degli aggettivi più usati dai miei studenti è bello. Per esempio, oggi ho passato una bella giornata, oppure il film ieri era molto bello. Queste frasi sono sicuramente corrette, ma esistono diversi modi alternativi per esprimere qualcosa di bello in italiano. Quindi nel video di oggi ti mostrerò 5 alternative che puoi utilizzare per esprimere qualcosa di bello in italiano. Iniziavo. Prima alternativa, carino, usato solitamente per esprimere un giudizio estetico. Per esempio, questa borsa che ho comprato è davvero carina. Seconda alternativa, interessante. Per esempio, il film che abbiamo visto al cinema era interessante. Vediamo con la terza alternativa, l'aggettivo affascinante. Vediamolo insieme in un esempio. Quel ragazzo che abbiamo incontrato in discoteca era davvero affascinante. E ora vediamo la quarta alternativa, l'aggettivo piacevole. Vediamolo insieme in un contesto preciso. Lo scorso weekend il tempo era molto piacevole. Ora vediamo il quinto e ultimo aggettivo di questo video. Splendido. Vediamo insieme come usarlo in una frase. Bravo Marco! Oggi hai fatto uno splendido lavoro. Eccoci qui, quindi abbiamo visto cinque modi alternativi che possiamo utilizzare per esprimere qualcosa di bello in italiano. Li riassumiamo brevemente. Carino, interessante, affascinante, piacevole, splendido. Perfetto! Ora ho un piccolo esercizio per te. Scrivi nei commenti una frase utilizzando uno di questi cinque aggettivi e sarò felice di risponderti. Ti ringrazio per essere arrivato fino alla fine di questo video e ci sentiamo nei commenti. Grazie mille e a presto! Ciao! Ciao!